Grazie Presidente, gentili senatrice e gentili senatori. Cercherò di rispondere un po' a un dibattito che è stato molto ricco di interventi, di spunti, di notazioni critiche anche, come è legittimo che sia. Non sarò organico, toccherò solo alcuni degli argomenti trattati, ma cercherò così di arricchire anche le questioni che avevo già affrontato nella relazione introduttiva, nelle comunicazioni introduttive. Un tema che è stato toccato, se non sbaglio dalla senatrice Drago, è quello del calo demografico. Questo è un problema serissimo. Richiamo tutti a considerare che stiamo attraversando una curva di calo demografico molto seria, tra le più severe degli ultimi anni. Un po' di anni fa in Germania successe la stessa cosa. Iniziarono a lavorarci in modo sistematico con interventi organici. Dobbiamo farlo anche noi. È molto preoccupante perché, in prospettiva, se non interveniamo adesso, in tempo, rischiamo davvero di compromettere il futuro e il benessere futuro dei nostri figli. E occorrono interventi economici strutturali, strutturati. Quindi, qui davvero dobbiamo investire sul futuro. E certo non possiamo farlo. Questo è un interrogativo spesso che viene sollevato in modo retorico. Certo non possiamo farlo creando una crisi di governo o cercando di far cadere un governo. E dal prossimo luglio partirà, e questa è una misura concreta e strutturale, la riforma dell'assegno unico mensile. L'ho già richiamata. Per ciascun figlio a carico, fino a 21 anni di età, avremo un assegno unico e coinvolgerà oltre 12 milioni, 12 milioni e mezzo di bambini e di ragazzi. Questo dovrebbe, è una misura volta ad alleggerire la pressione economica sulle famiglie, soprattutto le più numerose, ma anche, attenzione, il carico di cura che è ordinariamente e abitualmente grava sulle donne. E attenzione, lo dico e lo sottolineo, questo era un progetto che la ministra d'Italia Viva, Bonetti, aveva insieme al governo coltivato. E inoltre all'esame del Parlamento la delega Family Act, volta a rafforzare le politiche di sostegno alle famiglie, anche attraverso la riforma dei concedi parentali, con l'estensione a tutte le categorie professionali, e anche con l'introduzione di congedi di paternità obbligatori e strutturali. E in particolare, proprio per quanto riguarda i congedi parentali, il governo è già intervenuto. Voi lo sapete bene perché nella legge di bilancio 2020-2021, attraverso una proroga e l'estensione del congedo obbligatorio di paternità, da sette a dieci giorni. E' stato toccato anche il tema della scuola. Altro tema che ci sta a cuore a tutti, dobbiamo lavorare. Lavorare perché la scuola resti centrale nell'agenda non del governo, ma del paese, dell'intero paese. Abbiamo realizzato 40.000 aule in più, con i lavori estivi di edilizia scolastica. Non è solo merito del governo. È merito di una grandissima sinergia, quella a cui alludevo questa mattina quando ragionavo dell'alleale collaborazione con tutte le istituzioni, anche locali. È stato un grande sforzo che è stato fatto dai sindaci, dai presidenti di regione, da tutte le autorità, anche territoriali. Poi abbiamo mobilitato 10 miliardi in più nell'ultimo anno sulla scuola, archiviando la stagione dei tagli che avevamo ereditato. Abbiamo inoltre previsto dei corposi interventi, un piano, un intero capitolo. Ritroverete nella versione adesso aggiornata del recovery plan, troverete un intero capitolo dedicato alla filiera dell'istruzione. Ad oggi oltre 5 milioni di studenti del primo ciclo sono stati in presenza durante l'anno scolastico. Sottolineiamolo. Stanno rientrando adesso a scuola gli allunni della secondaria e di secondo grado. Viviamo una curva epidemiologica che non accenna a migliorare, ci preoccupa, ma cercheremo di continuare a fare di tutto. La scuola è di tutti, cercheremo di continuare a impegnarci per garantire per quanto possibile una didattica in presenza, perché è quello l'obiettivo. Sappiamo che è importante per gli studenti che ci siano metodi di apprendimento basati sull'interazione personale diretta con i docenti e con i propri compagni. Abbiamo previsto, sono stato sollecitato anche a qualche riflessione per quanto riguarda il piano delle assunzioni, noi abbiamo previsto l'assunzione di 25 mila insegnanti in sostegno in più, approvando una norma specifica per i docenti già specializzati, e abbiamo bandito concorsi per quasi 80 mila docenti, contemperando sia le esigenze di stabilità dei precari, sia l'aspirazione di mezzo milione di laureati a concorrere per insegnare nelle scuole. E poi abbiamo introdotto, ovviamente la ministra competente, introdotto innovazioni, alcune innovazioni, la chiamata veloce della cosiddetta fascia aggiuntiva, che ha permesso di assumere moltissimi precedenti vincitori di concorso e i doni ancora presenti in graduatoria. Senza tali misure non sarebbe stato possibile, ma la scuola richiede uno sforzo continuo e continueremo a impegnarci. Molte osservazioni hanno riguardato il nostro calo del PIL, i dati macroeconomici e anche la consistenza delle misure di ristoro. Guardate, non corrisponde affatto al vero che l'Italia sia il paese con la caduta più forte del PIL. I dati parlano chiaro, sono dati. Peraltro quando li esaminiamo dobbiamo sempre tener conto che l'Italia purtroppo è stata particolarmente svantaggiata rispetto ad altri paesi europei e nel mondo occidentale, perché abbiamo avuto l'esplosione della pandemia, della prima ondata, mentre altri paesi hanno subito questa esplosione più in ritardo. Ebbene, nonostante l'Italia sia stata colpita per prima in modo particolarmente violento e improvviso della pandemia, nei primi trimestri del 2020 il calo tendenziale del PIL è stato lo stesso che in Francia, meno 9,5%, inferiore a quello registrato in Spagna, meno 11,5% e nel Regno Unito, anche qui 11,1%. Poi il rimbalzo che abbiamo registrato nel terzo trimestre, grazie anche alle misure di sostegno all'economia, è stato tra i più alti d'Europa, pari al 15,9%, nonostante l'impatto della seconda ondata e gli ultimi dati ci spingono a confermare la previsione per il 2020 di un calo del 9%, sensibilmente inferiore a quello previsto nel corso dell'estate ai principali istituti internazionali, ancora una volta minore di quello atteso per gli altri paesi europei. È ancora più destituita di fondamento, appare l'affermazione secondo cui l'Italia avrebbe erogato meno ristori rispetto agli altri paesi. Nel corso del 2020 abbiamo attuato misure a sostegno di famiglie, imprese e lavoratori. Non sto dicendo che siano state sufficienti, perché siamo consapevoli di alla sofferenza di tantissime famiglie, di tanti cittadini che ci guardano. Sto semplicemente dicendo che nel 2020 abbiamo attuato misure a sostegno di famiglie, imprese e lavoratori che valgono circa il 6,6% del PIL, a cui aggiunge 300 miliardi di credito oggetto di moratoria, 150 miliardi di presti garantiti. Si tratta oggettivamente, sono dati freddi che non risolvono la sofferenza di chi in questo momento ci sta guardando, ma si tratta complessivamente di uno degli interventi più massicci realizzati in Europa, pari solo a quello messo in campo dalla Germania. Ed è grazie a questa rete di protezione che il PIL è calato meno del previsto e ciò in parte ha compensato anche l'aumento del deficit che sarà di circa 2,5 punti percentuali di PIL inferiore alla somma del deficit ciclico degli interventi effettuati. Purtroppo, mentre con l'Agenzia delle Entrate abbiamo sperimentato una modalità, grazie anche ai dati della fatturazione elettronica, dell'efficienza anche del sistema che è in uso all'Agenzia, una rapidità nell'erogazione, sappiamo che abbiamo avuto tanti ritardi, limiti per quanto riguarda l'erogazione della cassa integrazione. Sono stati fatti anche lì, sono state percorse delle accelerazioni rispetto ai tempi del passato. Erogazioni che avvenivano in cinque anni sono avvenute in pochi mesi, però chiaramente ai cittadini, bisogna dirlo, e questo è stato un motivo davvero di sconforto anche per noi, abbiamo cercato di rimediare in tutti i modi, ma quando erediti un sistema così concepito non lo puoi certo cambiare, così complesso non lo puoi certo cambiare nel giro di qualche settimana, qualche mese. Adesso però attenzione, del decreto ristori si occuperà il Parlamento e mi risulta che già domani in quest'Aula ci sarà la possibilità di esprimersi sulla nuova corposa richiesta di scostamento e ricordiamoci anche che alla vostra attenzione sarà posta anche la questione della necessità di un intervento perequativo per coloro i quali sono stati sacrificati dai criteri che hanno consentito la rapida erogazione dei ristori. è stato toccato il tema della giustizia e allora è chiaro che sulla giustizia abbiamo qui una delle riforme strutturali che ci attende, sappiamo che è uno degli oggetti delle raccomandazioni che vengono rivolte all'Italia e anche dall'Europa, dalla Commissione da tempo. Intanto è stato varato un massiccio piano ordinario delle assunzioni per oltre 16.000 unità tra il 2018 e il 2023 ed è stato programmato l'aumento della dotazione organica dei magistrati di 600 unità. Ancora nel recovery plan ritroverete uno stanziamento di 2,3 miliardi di euro da destinare in particolare a vari piani per rendere più spedita la nostra giustizia ma soprattutto per smaltire l'arretrato. Anche perché i nostri magistrati, se noi guardiamo le tabelle di comparazione, i magistrati italiani sono bravi, dobbiamo dircelo, hanno una media di produttività tra le migliori in Europa, però il problema è la zarvorra dell'arretrato. Quindi sono programmati attraverso il recovery plan 8.000 assunzioni con contratto a tempo determinato anche rinnovabile per quanto riguarda addetti all'ufficio per il processo e 1.000 magistrati aggregati con contratti rinnovabili. Saranno inoltre assunti con contratto determinato a ciclo comunico fino a 4.200 operatori tra cui architetti, ingegneri statistici, informatici, figure professionali che servono per amministrare in modo efficiente e moderno la giustizia. Ma sono proposte questi ultimi progetti che potrete discutere e potrete, se ritenete, anche migliorare perché sono nel recovery plan. Rispondo al senatore capogruppo Romeo della Lega. Oggi si interrogava e chiedeva, Presidente, che fine hanno fatto i disegni di legge sulla giustizia? E guardi, le informo, dal 2019, inizio del 2019, quello sulla giustizia civile e dal 2018, la riforma del codice civile, i disegni di legge delega sono alla Commissione giustizia del Senato. Chiede al Presidente della Commissione e del suo partito. Cerchiamo di dare tutti un'accelerazione all'esame di questi progetti. Il Paese attende. Noi parliamo in questi giorni tanto di coronavirus. C'è un virus forse peggiore, non lo dobbiamo mai dimenticare. È un virus peggiore del Covid. Rimane il virus della mafia. La difesa della legalità costituisce una dimensione ontologica di questo Governo. E nel nostro DNA il contrasto della mafia e la difesa della legalità non costituiscono per noi una generica tensione, ma una deliberata strategia di azione. Voglio rassicurare tutti i cittadini. Sarà sempre così fino a quando questo Governo sarà qui. E ne approfitto per ricordare oggi, 19 gennaio, è il giorno della nascita di un grande personaggio che non voleva far l'eroe, addirittura ebbe a dichiarare che lui ci capitò per caso ad avere a che fare con la mafia. Paolo Borsellino non nacque 81 anni fa. Permettetemi di aggiungere al vostro ricordo una sua frase che a me è sempre particolarmente piaciuta. La lotta alla mafia deve essere un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Avete toccato in tanti il tema dei decessi. È un tema che, dico la verità, quando ne parlo, e mi è capitato spesso di parlarne in pubblico. È un tema su cui sono molto cauto, perché è un tema che ci rimane a tutti, ci rattrista, ci addolora. E su questo siamo tutti d'accordo. Non possiamo mai degradare questo tema a una triste contabilità numerica. Io ogni giorno, come voi, immagino, seguo, corro subito al bollettino, vedere come va la curva epidemiologica. Quando vedo il numero dei morti è un numero sempre che ci rimette a tantissime persone che vanno via. Poi, tra l'altro, per la maggior parte, la media... Guardate, noi abbiamo una media dei decessi per buona parte. La media è sopra, riguarda soprattutto la soglia anagrafica, sopra gli ottantenni. L'ho già detto, sono quelli che usciti dal dopoguerra hanno lavorato per rendere grande l'Italia, per farla entrare nel G7. Quelli che hanno costruito il miracolo economico. Sono i nostri genitori, i nostri nonni. Perché un numero così alto? Innanzitutto, anche qui dobbiamo ricordare che siamo stati primi in Europa, nel mondo occidentale, a essere colpiti dal virus. E questo ha sicuramente avuto un peso enorme nella prima fase. Essere i primi... Vi posso chiedere su questo? Poi semmai sull'altro argomento ritornate a parlare. Essere i primi ad affrontare questo tema, senza avere un manuale, senza avere ancora la scienza che si era formata un'opinione chiara, senza avere l'acquisito dei dati sperimentali. È una cosa che ovviamente è stata devastante per noi, un impatto devastante. Ricordo anche che eravamo sprovvisti, lo ricordate, di mascherine, di macchine, di respiratori. Abbiamo scoperto che nel nostro Paese non se ne producevano quasi. Abbiamo dovuto cercare in giro per il mondo, con tante difficoltà, tutte queste attrezzature. Ricordo che i tamponi che effettuiamo oggi non sono affatto paragonabili con il numero di quelli che facevamo durante la prima fase, in misura nettamente inferiore. E sappiamo oggi quanto questi dati, questi test, controlli siano fondamentali per diagnosticare le persone positive. Ricordo ancora, l'Italia si caratterizza per avere una delle popolazioni più anziane a livello mondiale, dopo il Giappone addirittura. E abbiamo anche una popolazione, attenti, che vive, come dicono i scienziati, i geriatri molto a lungo, ma non invecchia affatto bene, invecchia con molte morbilità, se guardiamo ai dati statistici e comparativi. Di recente un illustre infettivologo dell'ospedale Sanco di Milano, il professor Galli, ha detto che se prendiamo i dati del periodo tra settembre e gennaio in Italia abbiamo il 2% circa di letalità tra i casi confermati esattamente in linea con i dati della Germania. Quindi se vogliamo ridurre tutto questo, un fatto statistico, eccetera, cerchiamo anche di prendere i dati e di lasciarci guidare dagli esperti. Ricordo che la Germania, purtroppo, lo dico, e salutiamo il popolo tedesco, ma e tutti gli altri popoli che stanno soffrendo, anche loro, nelle ultime settimane la Germania ha superato i mille morti al giorno, nonostante le rigide misure imposte dall'inizio di novembre, ha fatto registrare una preoccupante impennata di decessi degli ultimi tempi. Addirittura nel mese di gennaio in numeri assoluti sta facendo registrare quasi il doppio dei morti dell'Italia. E la Germania, la cito perché è considerata uno dei paesi tra più virtuosi nell'Unione Europea, perché ha delle strutture ospedaliere molto organizzate, ha un numero impressionante di disponibilità per quanto riguarda i presidi ospedalieri di terapia intensiva in particolare. Ecco, questo per far capire che il Covid sta mettendo in ginocchio anche i paesi che sono più strutturati, che hanno investito molto più di noi nella sanità, diciamolo, molto più di noi nella sanità e che quindi dovevano risultare più riesilienti. Però, ripeto, la contabilità dei morti è una questione molto delicata. Trattiamola al di fuori della contesa politica perché rischiamo veramente di toccare un argomento molto triste e quindi le polemiche sono davvero poco onorevoli. Italia Viva e il senatore Renzi in particolare ha fatto un intervento in cui ha ricostruito, diciamo, dal suo punto di vista le ragioni di questo nostro oggi di restare insieme, di essere qui a discutere sulla fiducia al governo. Ma io voglio dire una cosa. A me non sembra che quando noi abbiamo trattato dei temi concreti non si sia trovata una soluzione. Perché quando, innanzitutto, se parliamo del recovery plan che è stato molto discusso, è stato uno degli argomenti controversi, questo recovery plan, lo ricordiamo, non è nato, non è stato elaborato in qualche oscura cantina di Palazzo Chigi. Questo recovery plan è stato elaborato in incontri bilaterali con tutti i ministri, anche le ministri d'Italia Viva. E alla fine questa bozza che voi avete voluto distruggere anche mediaticamente era un frutto di un primo confronto e acquisizioni a livello bilaterale con tutti i ministri. Quando è iniziato il 7 dicembre il Consiglio dei Ministri, il sottoscritto, ma nell'accordo con tutti i ministri, ha presentato questa bozza e ha detto che la discuteremo per tutto il tempo necessario, con tutte le modalità che vogliamo. Confrontiamoci. Dovevamo operare, ovviamente occorreva un confronto, un momento collegiale e sono stato molto chiaro. Questi incontri bilaterali non avevano risolto un grave problema, cioè quello di operare scelte strategiche, di tirar fuori la politica che sceglie, dilige le soluzioni, dà una visione. Questo può essere frutto solo di un confronto collegiale, ma il confronto collegiale lo si può fare anche con toni tranquilli, sereni, con leali collaborazione. L'effetto finale di quella vostra iniziativa è stato di bloccare per 40 giorni i dico per i pranzi. Avremmo potuto ritrovarci intorno a un tavolo, la disponibilità c'è stata subito, avremmo potuto ritrovarci e nel giro di 20 giorni, forse anche 10, forse 10 esagero, per carità, una ventina di giorni e dare al Paese e dare al Parlamento molto prima la versione aggiornata, versione aggiornata che è stata migliorata anche grazie al vostro contributo, ma anche se mi permettete, grazie al contributo delle altre tre forze di maggioranza, perché in maggioranza si discute tutti insieme e nessuno può avere la pretesa della verità, delle soluzioni migliori, delle soluzioni più proficue nell'interesse del Paese. Anche la cabina di regia. Avete ritenuto che la proposta che era stata presentata fosse una proposta non accettabile, l'avete giudicato indecente, quello che volete. Ma chi ha detto che non si poteva discutere? Ma quando mai non si è discusso? Ditemi una volta in cui è stato imposto qualcosa a voi o altre forze di maggioranza. Il risultato è che adesso noi dobbiamo affrettarci, perché comunque è una struttura di monitoraggio, un percorso per accelerare il percorso riformatore e realizzare questi investimenti e queste opere. Va fatto ed è urgente, perché ce lo chiede anche l'Europa, come abbiamo carito. Si può discutere su tutto. Quando si sceglie la via del dialogo, del confronto, e voi lo sapete, perché tantissime soluzioni, anche il familiare, tantissime che per voi sono state assolutamente qualificanti delle vostre iniziative politiche, avete trovato in particolare il sottoscritto, oltre che le altre forze politiche, a difendervi. E io ho difeso le vostre ragioni spesso, anche contro opinioni diverse e differenti di altre forze politiche. Non avete mai trovato porte chiuse. A un certo punto, però, avete iniziato a scegliere una strada diversa, che non è quella della leale collaborazione, diciamolo anche di fronte al Paese. Avete scelto la strada dell'aggressione, degli attacchi mediatici, avete iniziato a parlare fuori e non più dentro. E una volta scelta, la rispettiamo, la rispettiamo, però permetteteci di dire che forse possiamo dire che forse non è la scelta migliore all'interesse del Paese, possiamo dire che forse questa situazione non è, non significa avere a cuore, investire nel futuro, come ripetete. Ancora, sul MES, è chiaro che la questione del MES, lo sapete bene, è divisiva. Il MES può essere approvato in Parlamento e le forze di maggioranza su questo non sono d'accordo. Però aggiungiamo pure che per stanziare risorse aggiuntive per la sanità, ne abbiamo stanziate tantissime, ne abbiamo aggiunte nel recovery plan e le abbiamo aggiunte rispetto alle risorse già cospicue, stanziate nei decreti legge del 2020 e nella legge di bilancio del 2021, dovremmo aumentare il deficit e quindi il debito pubblico. E questo prescinde quindi dalla possibilità di utilizzare MES o non MES. E in ogni caso, se mi permettete, è davvero contraddittore una volta aver contribuito al miglioramento del recovery fund, decide di non accettarlo perché non c'era MES. Vorrei chiarire che c'è stato qualche intervento che riguarda proprio la prospettiva del progetto politico che ho presentato, insieme alle forze di maggioranza che sono rimaste a collaborare in modo leale. Io comprendo la diffidenza che è stata sollevata, una diffidenza genuina e una diffidenza che fa onore a chi l'ha sollevata. Penso ad esempio al senatore Quagliarello. Lei ha detto, senatore, ha obiettato che il mio invito ai volenterosi, alle forze singoli parlamentari ma anche rappresentanti di nobili tradizioni che si collocano in ogni caso in un perimetro progettuale ben chiaro. Vocazione europeista, l'abbiamo detto, scelta per lo sviluppo sostenibile, transizione verde, digitale, modernizzazione del Paese, rendere più efficiente la pubblica amministrazione, la giustizia e via discorrendo. Lei ha detto ma voi non potete pensare di fare questa proposta con una logica di annessione. Annessione è un concetto che mi ricorda i tempi bui del Novecento. No, guardi, è un invito franco, è un invito fatto in modo trasparente, aperto, di fronte al Paese. Noi dobbiamo rimanere tutti a testa alta. La gravità della situazione è tale che non possiamo permetterci di condurre, come dire, delle partite in modo opaco. Questo è un invito aperto, franco, trasparente. Non è solo rivolto, ovviamente. Certo che c'è un problema di numeri della maggioranza. Siamo in democrazia. Se questi numeri non ci sono, questo governo va a casa, non va avanti. Ma noi, dicevo, vi abbiamo chiesto di aderire a un progetto per scelte chiare e valoriali, sulla base di una chiara collocazione europea-euroatlantica, per alcuni fondamentali obiettivi che abbiamo già declinato. Certo, è un progetto che ha un perimetro già ben delimitato, si basa in un solido dialogo sperimentato già durante questa esperienza di governo da almeno tre forze di maggioranza. Però, dall'altro lato, è un progetto ben aperto a chi vuole migliorarlo, a chi vuole apportare un contributo di idee, di progetti, di impegno genuino, leale. Un progetto di chi vuole apportare nuove energie e vuole definire con noi, l'ho detto, un patto di fine legislatura. Quindi ci sono tutti i margini per lavorare in modo trasparente, per poter offrire un rendiconto ai cittadini di quello che stanno facendo. Patto di fine legislatura su cui stavamo già lavorando e continueremo a lavorare se ci darete la fiducia. E subito dopo, ovviamente, valuteremo anche un tema su cui stavamo già discutendo, come rinforzare la squadra di governo. E su questo vorrei anche chiarire... Chiarire, perché ritorna una questione, vedete? Ritorna una questione per cui avrei, mi si rimprovera ancora di una risposta data alla ventesima intervista in cui mi si chiedeva del rimpasto, in cui mi si chiedeva della disponibilità a cambiare i ministri. Io ho riferito con una iperbole, una figura della retorica classica, che i ministri, compresi quelli di Italia Viva, sono i migliori del mondo, ho detto. Mi è stata rimproverata questa espressione. Però attenzione, io sono il Presidente del Consiglio, il capitano di una squadra e ha il dovere sempre di difendere i propri ministri, tra l'altro da attacchi completamente strumentali. Ma non voglio citare la mia opinione. Voglio citare un'opinione che credo che nessuno oggi mettiamo in discussione perché non fa parte del perimetro della maggioranza, almeno mi è parso di capire. Il senatore Nencini, che ha anche un fine intellettuale, ha scritto e ha detto chiaramente oggi che, attenzione, quando facciamo queste valutazioni, facciamo anche e consideriamo che non ci sono termini di paragone, termini di comparazione. Nessun altro ministro ha attraversato una fase così grave, recessiva, un'emergenza così coinvolgente nella storia repubblicana. Poi le opinioni sulle valutazioni del singolo, dei ministri qui presenti sono aperte, ci mancherebbe. Però tenete conto che l'impegno è stato notevole, non c'è stato qui da parte di nessuno risparmio di un briciolo di energie fisiche e intellettive. Voi parlate sempre di poltrone, di poltrone. Quando io sento questa parola io penso, lo dico anche ai cittadini che ci ascoltano, io non mi vergogno di dire che stiamo seduti su queste poltrone. Secondo me non è importante dire che non sono interessato alla poltrona, ma dire che essere interessati a stare seduti con disciplina e onore. Grazie. 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 Grazie a tutti.